Pronto Raffaterno? Per favore mandatemi qualcuno. Grazie Raffaele, lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo visti i prodotti a risparmio energetico che c'è installato. Ad oggi 14 giugno non ci sono i presupposti economici per organizzare la disfida dei trombonieri. Con queste parole il presidente dell'ATSC Pasquale Trezza ha aperto la conferenza indetta per far chiarezza appunto sull'atteso evento ma anche sulle incomprensioni che hanno caratterizzato in generale il dialogo dell'ATSC con l'amministrazione Servalli a partire dal 2019 sull'organizzazione dei principali appuntamenti del folklore cavese. Ad oggi non ci risulta nessun impegno di spesa da parte dell'amministrazione relativa al contributo per la metà di sfida dei trombonieri 2022. Abbiamo ricevuto solo promesse verbale da parte dell'amministrazione sulle quali però non possiamo fare affidamento e basare impegni economici dei singoli sudalizi. Siamo aditati come coloro che hanno problemi interni organizzativi. L'unico problema del quale sono a conoscenza è l'impossibilità economica da parte dei sudalizi di poter fare fronte alle spese per la disfida dei trombonieri. Già a settembre 2021 abbiamo fatto presente le nostre problematiche economiche all'amministrazione ed abbiamo chiesto un tavolo di lavoro congiunto. Tutte le volte purtroppo siamo stati liquidati con un aggiorniamoci. Abbiamo subito in maniera silenziosa gli aumenti delle tariffe inerenti gli impianti sportivi. Anche se direttamente colpiti non abbiamo mai strumentalizzato questo aspetto. Veniamo da due anni difficili dove le nostre sedi associative sono state chiuse a causa del Covid. Decreti regionali e nazionali ci hanno impedito di fare l'aggregazione. Il folklore senza aggregazione non cresce. Dove non c'è aggregazione non c'è crescita. È impossibile pensare di organizzare una manifestazione articolata e complessa quella di sfida dei trombonieri a meno di un mese dall'evento senza un impegno di spesa formale. Bastava essere chiaro che sin dal primo incontro avvenuto a settembre 2021 e forse non saremmo arrivati alle situazioni in cui siamo. Purtroppo ad oggi l'amministrazione non è credibile. Troppe promesse, troppi impegni anche sottoscritti non sono stati mantenuti. L'impegno personale in qualità di Presidente della TSC è che ci impegneremo per un 2023 florido, prospero partendo da una programmazione preventiva e metteremo in campo tutte le forze per l'anno prossimo affinché tutti gli eventi cittadini vengano realizzati nel miglior modo possibile. È importante ripartire da questi atti amministrativi Come ricordavi, il 2013 è stato inserito nel Statuto Comunale, all'articolo 7 la revocazione della disfida dei trombonieri e dei festeggiamenti del Santissimo Sacramento come manifestazione di altro valore. Detto questo, nel 2018 c'è stato seguito da parte dell'amministrazione Servalli di una delibera di giunta dove si prevedeva in tempi brevi una regolamentazione delle due manifestazioni che ancora oggi non è avvenuta e la previsione di spesa nel bilancio comunale annuale sia per l'organizzazione della disfida e sia per un contributo alle associazioni che vi partecipassero. Il problema è proprio questo qua cioè due manifestazioni così importanti sia per storia sia per numeri non possono essere date in gestione tra virgolette all'associazione o all'ente Monte Castello io penso che se si voglia veramente fare un qualcosa per il folklore e per il futuro in primis bisogna regolamentare queste manifestazioni e farsi carico principalmente all'ente comunale come avviene nelle altre città il primo passaggio, io lo dico ormai da anni è quello di un riconoscimento alla storicità di questi gruppi che ad oggi ancora non è avvenuto. Beh, lo sappiamo tutti che ormai dal 2019 purtroppo abbiamo avuto una serie di problematiche condivise sia con gli organizzatori degli altri eventi sulla città a livello folcloristico sia con l'amministrazione che ha voluto fare praticamente diciamo da paciere però questo poi aveva previsto la sottoscrizione di alcuni impegni a far sì che praticamente poi alla ripresa delle attività perché poi arrivando il Covid insomma c'è stato un attimino questo fermo tutti i tasselli diciamo che erano fuori posto sarebbero stati sistemati con una programmazione diciamo seria diciamo è duratura purtroppo siamo arrivati ad oggi che promesse e programmi disattesi con una programmazione diversa con idee chiare anche da parte dell'amministrazione perché noi le idee ce le abbiamo sempre avute noi le idee le abbiamo chiarissime noi siamo prontissimi a fare qualsiasi tipo di attività riprendo un inciso che ho visto su qualche post di Facebook o qualche giorno fa le associazioni praticamente si dovrebbero fare promotori sul territorio di altre ulteriori attività piuttosto che pensare di incentrare solamente gli eventi sulla distruttiva di trombonini perfetto allora io non le ricordo solo qualcuno io come archipugiere Santissimo Sacramento per dieci anni ho organizzato la festa medievale purtroppo è un po' di anni che non si può fare mancanza di fondi e di liquidità nozze di Florinella mancanza di fondi e liquidità totalmente ridimensionati il festival delle torri fondi e liquidità Carlo Quinto stava iniziando questo progetto non cresce per mancanza di fondi e di liquidità signori non ho altro da aggiungere non ho altro da aggiungere non ho altro da aggiungere